Ennesima puntata dell'intricata vicenda Coires. Licenziati, poi riassunti, ancora nuovamente licenziati. Si susseguono le settimane, ma i 190 dipendenti del Consorzio che gestisce la raccolta di rifiuti in 21 comuni del Palermitano non sanno ancora se e quando torneranno in servizio. Per questo stamane si sono dati appuntamento davanti alla Prefettura di Palermo per chiedere ad un organo autorevole del Governo nazionale di prendere una posizione, di fare da intermediario tra la Regione e la società per porre fine ad una situazione, dicono, diventata ormai ridicola. Continuiamo giornalmente ad essere sospesi, poi ripresi, poi sedotti e poi abbandonati. Venerdì è stata convocata l'Assemblea dei Soci, alla quale è stata votata a maggioranza la prosecuzione di questi rapporti di lavoro. È stata votata a maggioranza la prosecuzione di questi rapporti di lavoro, ma di fatto l'azienda non ha dato seguito alla decisione presa dall'Assemblea dei Soci. L'Assemblea dei Soci è stata riconvocata nuovamente a Casteldaccia nella giornata di giovedì per ridiscutere nuovamente la nostra vicenda. Ad oggi di fatto noi ci troviamo ad avere una posizione molto ambigua, perché siamo sospesi dal servizio operativo, ma a quanto pare i contributi previdenziali INPS continuano a decorrere. I contratti di lavoro dei dipendenti sono stati prorogati più volte, l'ultima il 14 maggio, ma nel frattempo nessuna risposta definitiva è stata data. Intanto si concentrano le aspettative sulla prossima riunione tra i soci del consorzio che si svolgerà giovedì. Ci ritroviamo all'interno della stessa azienda, dipendenti per esempio che fanno servizio, faccio un esempio, Castronovo prendono lo stipendio regolarmente ogni mese, e dipendenti che fanno il servizio a mesi e meri ancora aspettano il 20% a saldo dello stipendio di marzo, e più quello di aprile. Poi abbiamo dipendenti come per esempio di Codrano, che ancora aspettano lo stipendio di gennaio. Abbiamo altre cose assurde, ci sono colleghi nostri che hanno preso lo stipendio di marzo, ma in realtà ancora avanzano gennaio e dicembre dell'anno scorso. C'è una situazione paradossale. Le risposte sono che le casse comunali sono vuote e che quindi noi non abbiamo diritto a questo punto a prendere stipendio, perché prima non è che si può mandare in distesto un comune per pagare 190 padri di famiglie, per carità non si va mai, però così si mandano in distesto le famiglie di 190 dipendenti.